ok ragazzi come avete visto all'inizio è un video molto epico e pieno di fail quindi lasciate un bel like per questo videone e per supportare meglio il canale quindi lasciate like buona visione si gira bene a tutti ragazzi qui è pol e bentornati oggi siamo qua su una serie di minecraft parkour insieme a caro cristian ciao ragazzi sono cristian e oggi scleriamo un po sulla mappa di minecraft parkour ha detto tutto lui quindi noi siamo qua come vedrete dal video su minecraft parkour una mappa che abbiamo trovato su minecraft italia se non mi sbaglio se volete la mappa che la metto in descrizione oggi sarà una sera un po strana perché allora voi non vedrete però vi assicuro che ci sarà lui cristian usarà il mouse appunto come vedrete e userà la pastiera però un po difficile alzarla comunque ve la vedrete qua è un po sotto quindi sarà un po lo sclero e quindi si può iniziare iniziare iniziamo la mappa è buon sclero ok 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 com'è che è? aziona la leva azioniamo la leva mi sa anche l'altro ok mi sa ok si è aperto ok facciamo scelto tutto allora è la prima volta che la prima volta facciamo una mappa parkour quindi in due ok vai vai ok qua ci siamo cos'è che c'è scritto? un giro giù eh fino sali sali finici vai ecco siamo arrivati in alto si ricorda sempre di dormire all'inizio di ogni livello quindi ci sono i come si chiamano? per settare gli spawn gli spawn checkpoint e per settare lo spawn come ha detto lui bisogna dormire ok quindi andiamo a dormire ok dormite quindi mi sa che si può iniziare buona fortuna buona fortuna ok vai io un po' che cazzo è quella roba lì sotto? vai vai no giocale iniziamo figa ottimo allora vai ok no figa no no non si può perdere al primo livello non abbiamo messo il keep in ventre mi hanno già perso un'armatura 6 e a half hours later ok vai prova fermo 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 adesso va indietro ok raga siamo arrivati shift indietro ok perfetto vai ancora vai vai che cazzo che cazzo salta salta doppio lascia shift ok fermo indietro indietro ok adesso qua devi vai un po' più a destra perché è un po' più lungo ok no un po' più a sinistra ok cosa devo fare vai di qua ok questo è lo spigolo perfetto prova vai doppio ancora ok fermo fermo perfetto prendi ancora un pochino di rincorsa occhio perché lì è singolo blocco vai che cazzo devo fare salta doppio fermo perfetto mamma mia questo cazzo sembrava portare al neve vai un pochino un po' più indietro shift indietro ok vai dove è il letto è là non dimmi che l'ha il letto no si è lì vai 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 fermo ok calma allora vai un po' indietro vai la molla lascia shift vai stop qua devi farlo uno cioè non doppio salto ok prendi un po' di rincorsa un po' di rincorsa un po' indietro ok solo una volta fermo qua due qua è lungo quindi vai indietro un po' eh ma così non cado ok lascia non cado non cadi non cadi ok lascia ok ok vai vai no il tuo dentro non vai fermo cazzo di buddha qua uno 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 qua ok qua è facile in teoria un saltino ok un saltino di qua perfetto vai ancora uno cazzo qua ok allora qua vai un pochino indietro non aspetta girati non aspetta ok ok vai ancora un pochino non cado no non cado si tolgo lascia mettiti un po' di là fermo cazzo mamma mia qua uno ancora un saltino anche qua ok qua il salto della piede ok vai non proprio nello spigolo vai un po' di qua ok qua 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 vai quando arrivi devi usare shift shift su quando si arrivi e ti aggrappi con shift alla scala poi saliamo allora vai indietro qua ok allora perfetto vai da qua appena arrivi shift ok adesso lascia shift salta doppio shift no non hai saltato non hai saltato e devi saltare sotto e devi saltare sotto 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 c'è un cubetto tu lanciati ok tu lanciati fidati dovrò fare quindi si ok vai vai ok dio mamma dovevi andare sul blocco qual blocco quello del pistone no il blocco del pistone quindi io devo andare l'attivi l'attivi ok adesso doppio poi salta aspetta senti bene devi correre corri corri sullo spigolo salti fermati oddio cazzo fermo fermo allora qua cos'è qua lo stesso discorso salti allora vai indietro salti quando no che cazzo di padre no che cazzo hai fatto salta fermo fermo mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia qua è lungo però salta ok qua è al massimo lascia shift salti arrivi 3 2 1 vai shift shift mamma mia mamma mia mamma mia qua è facile occhio saltino normale stronzo ok anche qua aspetta saltino stronzo occhio perché ce lo spigo maledetto shift ah cos'è shift ecco bravo shift ok ok siamo un buon punto è là è questo allora qua vai vai quando arrivi shift shift oddio mamma mia mamma mia mamma mia adesso vai indietro un po' di destra ok 3 2 1 fermo ok ok dai 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 qua non ho capito no no sullo spigolo ok 3 2 1 vai fermo ok 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 attimi di tensione eccezionale adesso da qua ok vai ferma ok stai prendendo la mano adesso qua dovremmo saltare lì 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 vai ok no prendi un po' di rincorsa ok ok cazzo l'onda ok vai ok vai ok aspetta fermo mamma mia mamma mia cazzo dai 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 che qua è facile aspetta metti bene dai fermo ok no che cazzo è ok allora con calma che cazzo è che cazzo è un salto non un doppio salto qua basta prendilo in corsa ok tu vai dritto un salto e atterri ok la fine è vicina allora un salto qua come un salto aspetta è in direzione bene non devo schiacciare niente io solo il salto no avanti e salto fai un salto porco dico mi scivolo la mano sono sudato no in serio non ho mai scivolo doppio clic doppio potuto clic ok 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 fermo fermo ok oh no che cazzo no no ma creiamo il sistema e qua devi lasciarlo cioè devo far così su tu fatti subito saltare ma è possibile no non ci arriva non ci arriva e tre blocchi aspetta prova ad andare giù no si proviamo da qua eh ma non è uguale proviamo dai proviamo a tirare proviamo o magari sarà oh mamma mia mamma mia mamma mia allora allora che cazzo era lei mi saprà più una volta che cazzo è una volta ok ok proviamo a tirare se cazzo il mondo oh prova attiva vai ok spessi niente grazie possiamo fermo skip porca si figa c'è la porta mamma mia siamo arrivati mamma mia dai 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 fermo ok non travediamo il paradiso non stiamo ok sì andiamo sì andiamo sì sì mamma mia mamma mia ok ragazzi per oggi il video finito siamo arrivati al secondo livello che è stata bestemmiante questa roba avete già visto queste robe bestemmianti stiamo registrando da quasi un'ora quindi 55 minuti infatti è quella che ci sono scoperti venuti quindi quindi è una cosa un po' bestemmiante ci sono le pagine di facebook twitter instagram dai dai da mettere mi piace e seguirmi su lì ogni video che metto o magari ogni cazzata che faccio la pubblico lì mi raccomando ragazzi quindi qui da Paul e da Christian è tutto lasciate like commento qui da Paul è tutto bella raga qui da